Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questa brevissima live, sarà un video ovviamente in cui cercherò di mostrarvi come potervi vestire come me è un qualcosa di nuovo che non ho mai fatto quindi vediamo un po' cosa ci offre il Poison Shop il Poison Boys Shop e come possiamo abbellirlo innanzitutto andiamo a vedere qualche completo un po' casual ovviamente perché tendo a vestirmi un po' in stile casual ma vediamo un po' ecco una cosa così ok quindi come avete visto dovete andare dalla cassiera andare in completi colpo no non colpo ma aspettate un attimo non me lo ricordo più ok completi colpo casual e scegliere la terza quindi il normale ciao GameX Pro mi raccomando come mi piace ragazzi dopodiché dovrete andare nelle parti superiori facciamo magari soprabiti no non soprabiti ma magari magliette ecco queste qua no direi di no aspettate che scegliamo no 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 magliette designer no allora nemmeno allora andiamo un po' parti sopra sportive no sono troppo andiamo un po' voilà andiamo un po' sopra abiti nemmeno cioè non possiamo metterle nemmeno ah devo ancora comprarmi tutti questi allora diciamo andiamo un po no quelle speciali no perché tanto ma allora sono delle polo aspettate sì sono delle polo esatto andiamo a sceglierne una nera ecco mi piacciono molto quelle nere quindi nella sezione polo scegliete la polo notte no aspettate questa polo larga nera o questo o la polo larga nera o la polo notte dai facciamo la polo notte e per quanto riguarda i pantaloni cerchiamo di mettere i pantaloni io di solito metto i jeans vediamo se abbiamo no no non parti superiori scusate i pantaloni eccoli qua i jeans andiamo un po cosa abbiamo ecco a me piacciono molto quelli di questo tipo facciamo standard blu scuro sbiadito e poi le scarpe ovviamente scarpe tendo a mettere quelle tipo all star o cose del genere quindi andiamo a vedere le farei quelle ecco tipo queste non sono male scarpe da skateboard antracite ok ci siamo poi dovrei andare un attimo dove ci sono le maschere oppure aspettate vediamo qua aspettate aspettate gli occhiali ecco gli occhiali mettiamoci gli occhiali no questi no eccoli qua occhiali hipster sette quindi da mare rossi mettiamo questi qua eeeh per quanto riguarda ecco gli orologi a me piacciono molto quindi andiamo nella sezione orologi appena ci compare orologi proviamo a mettere qualcuno stile vediamo un po' cosa hanno che cos'è a me piacciono ok to' a me piacciono a me piacciono ne ho un po cosa ci offre la casa direi forse questo qua universe caugari argento e magari le catenine sono ok no bracciali ok mettiamo con la destra siamo magari cambiamo la visuale abbiamo qualcosa di caro cari carino dai no questo qua è un video ragazzi è un po facciamo lo zoom direi braccialetto squadrato ok e questo è un po il mio stile poi magari andiamo un attimo dal parrucchiere a cambiarci la pettinatura velocissimamente secondo me è le chat o dislike ma fa niente tanto è comunque un voto ok ci siamo eccoci qua e conciature vediamo adesso ce li ho un po corti quindi direi di farli tipo tipo ecco tipo così però ovviamente ci facciamo con un marroncino scuro quindi 19 ma ecco perfetto e ci siamo perfetto e andiamo ciao samuel grandissimo ok e direi che possiamo andare a salvarci il completo ecco qua completi salvati andiamo a modificarci quello dell'unicorno e lo chiamiamo ovviamente leggendo 88 tac non li va bene ok risalviamo ok bene ragazzi questo è il completo non è molto difficile da fare spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi se non l'avete ancora fatto troverete come sempre il link in descrizione magari vi farò anche un riepilogo veloce nella descrizione per poter avere un look simile al mio e ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi bello ciao 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 Grazie.